cicloturisti e cicloturisti benvenuti oppure ben ritrovati qua nei su di bike channel siamo ad unconventional travelers ovvero il luogo dove vi porto a conoscere viaggiatori non convenzionali che magari rompono un po le regole e fanno dei viaggi interessanti e che vale la pena di raccontare oggi abbiamo qua in studio gabriele gargamella mi hai detto che ti soprannomeno gargamella non stiamo a spiegare perché però è il mio soprannome ok come si sente dall'accento sei toscano toscanaccio pur sangue e vieni da un paesino molto piccolo molto piccolo che si chiama vitereta nella provincia di arezzo e comune di laterina ok quindi sei sei proprio aretino aretino orgoglioso sì sono diventato perché sono nato a firenze però sono diventato aretino perché ci sono sempre in toscana sei rimasto e tu mi raccontavi prima che il tuo lavoro tra l'altro è bellissimo cioè tu fai la guida si porti le persone in bicicletta i turisti in giro nella mia zona in bici sia mountain bike che con quelle elettriche mountain bike normale ok e questo com'è che è nato nel senso che tu ce l'hai sempre avuta questa passione per la bicicletta oppure ha avuto un'evoluzione allora passione per la bicicletta sì ce l'ho sempre avuta perché fin da piccolo sono sempre andato in bici poi ho un ricordo molto bello che il mio nonno mi portava a vedere il giro d'italia quando si usciva dalla scuola perché proprio davanti all'uscita della scuola mettevano le transenne ci passava il giro d'italia e quindi da lì poi è nato sempre una passione grande del cellismo perché in toscana il cellismo è tipo uno sport regionale ok quindi è molto sentito molto sentito e tu ce l'hai sempre avuta questa cosa e poi com'è che è nata anche la passione che poi è diventato un lavoro di portare le persone in giro la passione è nata avevo abbandonato un po nel tempo la bici e per motivi di salute perché ho preso diversi chili era arrivato a figurati quasi a 80 chili wow a quel punto ho detto rinizio andare in bici ok quindi ho guardato nell'armadio c'avevo una vecchia maglietta della banesto di indurain perché era anni 90 che era un grande fan di indurain e di pantani di tutti e mi sono rimesso della maglietta comprato una bici da 300 euro e ho riniziato e da lì ancora non ti sei mai fermato non mi sono mai fermato tra l'altro tu quante bici hai perché prima hai detto che hai un sacco di bici per lavoro sono quelle che uso per portare le persone ho sei bici elettriche sei mountain bike normali e ora dovrebbero arrivare sei gravel quindi diciamo che da diversi anni ormai questa è la tua attività principale e però qual è lo step che ti ha fatto arrivare al viaggiare in bicicletta perché c'è una storia dietro molto avventurosa molto avventurosa step dei viaggi in bicicletta è venuto con la conoscenza di facendo questo lavoro ho iniziato a conoscere varie persone che fanno viaggi in bici e uno di questi è roberto che lo soprannominano io l'ho soprannominato il coach perché lui ha sempre la sua calma tranquillità ne racconta spiegare le cose e però ha una grande esperienza perché ha fatto più di vent'anni i viaggi in bici e le vacanze in bicicletta e quindi mi ha dato lo spunto per iniziare nei viaggi in bici e le ha fatte sempre la stessa maniera perché tu mi raccontavi prima che lui non ha niente non ha niente né telefono né ciclo computer ha solo il telefono fisso quindi se volete parlare con lui lo dovete chiamare a casa e se a casa come si faceva una volta di fatto è rimasto sempre così però questa cosa durante i viaggi in bicicletta potrebbe non essere il top e invece quello che pensavo anch'io però il primo viaggio fatto con lui l'ho fatto a luglio dell'anno scorso e siamo partiti io con il mio telefono e tutto e lui mi diceva guarda non ti serve a niente il telefono mettilo via però non ti serve a niente comunque tu te lo sei portato perché me lo sono portato perché è una cosa utile secondo me succede qualcosa devi chiamare devi fare è sempre utile poi volevo mappare il percorso fatto sta che chissà come mai il telefono nemmeno il primo giorno di viaggio out sicché siamo rimasti senza niente io senza telefono lui senza telefono avevamo la mappa del viaggio cosa fondamentale che la parte centrale del viaggio erano rimasti in macchina della moglie di Roberto quindi non vi eravate portati tutta la quindi non ci serveva tutta la planimetria del viaggio e a quel punto è venuto fuori l'indigeno e Roberto lui fa grande affidamento sulle persone del posto e quindi gli indigeni quindi i locali i locali lui li chiama gli indigeni perché sono i locali e abitanti della zona e quindi man mano che si andava avanti ci fermavamo chiedevamo informazioni e tutto infatti arrivando in bici è molto è facile a trovare un'empatia con le persone quindi non fai rumore non fai non stai disturbando non disturbi esatto ti guardano magari con un po di curiosità sì 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 di curiosità da dove venite che fate tutto è si chiede le informazioni e abbiamo continuato il viaggio e siamo arrivati a fine viaggio quindi ce l'avete fatta ce l'abbiamo fatta sì contro qualsiasi aspettativa oggi si vive tutti attaccati a telefonini e con tutta la tecnologia però una bella cartina una bussola si riesce ad andare dappertutto è incredibile come questi strumenti che sono vecchi tra virgolette sono ancora vali di oggi e quindi ti è nata da questo un po tutta la passione per il viaggio prendere e partire un po' all'avventura se vogliamo e visto che tu sei una persona di buon cuore comunque che ha voglia di fare prima appunto ci siamo conosciuti meglio mi hai anche un po' raccontato qual è la parte bella di questo viaggio cioè il risvolto bello perché viaggiare in bicicletta è bellissimo il viaggio in bicicletta però tu hai detto lo voglio legare a fare del bene una raccolta fondi ho deciso di farla perché tutti mi dicano sempre che sono egoista e quindi ho deciso di fare questo viaggio e dedicarlo a uno scopo altruistico e quindi ho cercato qualcosa che fosse differente da tutte le raccolte fondi però senza togliere niente a nessuno perché qualsiasi raccolta fondi è una cosa importantissima e parlando con mia sorella mi ha raccontato la storia di Valentina e Arianna dell'associazione italiana di xeroderma pigmentoso che è una malattia rara della pelle in pratica che chi soffre di questa malattia non può stare ai raggi UV solari quindi è una malattia seria? molto seria e devono uscire le persone che hanno questa malattia solamente dal tramonto in poi e quindi questi bambini vengono chiamati bambini lunari perché vivono solamente di notte e la cosa che fa capire di più l'effetto di questa malattia io ho visto anche parecchie volte nei tuoi video quando la mattina ti alzi e esci dalla tenda e aspetti il sole per scaldarti e loro non lo possono fare questa cosa ok quindi è una malattia che colpisce dei bambini che sono nati in questa condizione si manifesta dai due anni in poi con delle lentigini e con delle macchie sulla pelle che poi c'è vari tipi e varie patologie ed è una malattia molto rara mi spiegavi prima che colpisce poche persone però è molto seria come malattia in Italia fa quanto ce ne sono 60 ok è più conosciuta magari nel nord Europa mi dicevi anche si ok e quindi da lì la volontà di sostenere questa ricerca tramite una raccolta fondi una raccolta fondi e il viaggio com'è che l'hai legato a questa raccolta fondi? allora il viaggio l'ho legato perché prima cosa era partito il viaggio ok che io volevo fare la Francigena anche perché essendo il primo viaggio lungo che faccio è molto essendo una strada che è percorsa fin dal medioevo certo è molto mappata ci sono segnaletiche e molto ci sono molti servizi utili da poter usufruire e tu la vuoi fare al contrario? al contrario sì poi tutti dicono al contrario però se guardi bene nella storia Sigerico quando ha scritto della Francigena l'ha scritta mentre tornava ah ok questo non sapevo da Roma fino a Canterbury a Canterbury ah vedi questo non sapevo interessante quindi sì la partenza Sigerico è partito da Canterbury è arrivato a Gerusalemme sì a Roma per farsi fare un certificato dal Papa e poi è arrivato a Santa Maria di Leo che poi da lì è arrivato a Gerusalemme però nel ritorno ah ecco perché non c'era l'aereo al tempo quindi giusto lui da Gerusalemme ha scritto questo diario e da lì è partito bella questa cosa non lo sapevo quindi tu stai di fatto seguendo il racconto di Sigerico di Sigerico ok fantastico e tra l'altro poi mi raccontavi anche che durante il tuo percorso durante il tracciato cioè sul tracciato sul percorso tu andrai anche in diverse strutture dove appunto di ricerca sempre di ricerca sì appunto il percorso e il discorso dell'associazione si è trovato proprio un legame perché sono tutti nel percorso della Francigena ok quindi l'associazione italiana xeroderma pigmentoso è a Viareggio che sarà una tappa del viaggio e i soldi del ricavato verranno usati per una ricerca di una crema 100% UV che viene fatta dall'università di Pisa e dai CNR di Pavia ok i CNR di Pavia sarà un'altra sosta del viaggio ok e quindi mattoncino dopo mattoncino si ricollegava a mano a mano a mano a mano riuscirai a a ricollegarsi a passare da tutti e cercare durante il viaggio di far conoscere questa patologia e raccogliere e poi arriverai nel Kent perché tua moglie è inglese di quella regione la salutiamo ciao ciao hello ok fantastico no ci stava salutare perché comunque è il tuo punto di arrivo sì io arriverò a Canterbury e poi faccio la costa sud dell'Inghilterra ok che sarebbe fino alla Cornovaglia delle Sette Sorelle ok arriverò a Eastbourne ok e da lì poi andrò a prendere l'aereo ok quindi hai già programmato tutto il viaggio più o meno hai calcolato quanti chilometri saranno allora io ho calcolato su peggio dovrebbero essere 2000 2200 chilometri e qualcosa insomma quindi come viaggio bello non è male non è male e appunto tu l'hai legato ricordiamo ancora una volta questa associazione tra l'altro tu hai anche un tuo un tuo blog un tuo sito dove tu racconti tutto quello che farai eccetera eccetera anche qualche social dove ti possiamo seguire giusto sì più che altro io ho creato una pagina Instagram dedicata esclusivamente a questo viaggio che si chiama viaggio per i bambini lunari e poi mi potete seguire sulla mia pagina Facebook Gabriele Lovari perfetto quindi se lo state guardando su YouTube questo video trovate tutti i link in descrizione stessa cosa se lo state ascoltando su Spotify oppure su iTunes ma 2000 chilometri sono tanti quanti giorni più o meno tu hai io ho stimato un mese di viaggio ok un mese di viaggio perché avevo considerato ogni 5-7 giorni fare un giorno di sosta così cioè è giusto ci sta anche perché poi devi passare io l'ho fatto appunto la scorsa estate devi fare cose tipo il San Bernardo che non è proprio super super easy però si può fare quindi poi tu lo stai facendo con una bella missione dietro sono sicuro che che ti divertirai ma visto che tu sei anche una guida quindi sei anche esperto di bici sicuramente non avrai problemi di meccanica ma con che bici partirai che bici hai scelto e che setup ti vuoi inventare? la bici che ho scelto è una wheelier geron in acciaio e il setup userò delle borse classiche da cicloturismo da cicloturismo nella parte dietro della bici una borsa da manubrio e poi ho rubato un po' di segreti da da chi? da Piero e metterò sia la tenda e un'altra borsa stagna sulla forcella ottima scelta in modo da bilanciare bene la bici e non avere problemi trovare tutte le cose subito ok al volo quindi viaggerai facendo free camping sì ok ottimo sì sì 90% free camping ok dove 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 troverai insomma sì a volte mi fermerò qualche bed and breakfast o stelle tra l'altro mi sta venendo in mente adesso tu avrai anche la credenziale del pellegrino perché sai che c'è una credenziale sì 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 infatti ancora la devo acquistare però in questo diciamo se stavate pensando di farla francigena quest'estate c'è una credenziale che vi dà eventualmente accesso a sconti o comunque alloggio presso strutture dedicate ai pellegrini quindi questa è una cosa da tenere in considerazione che tu avrai sicuramente tenuto in considerazione sì sì ma beh comunque in generale comunque è un viaggio bello tosto intenso quindi vi invito ad andare a seguire Gabriele ripetiamo ancora una volta trovate in descrizione qua sotto tutte le informazioni ma facciamo così tra tutte le cose della tua attrezzatura dimmene due che non possono mancare non potranno mancare all'interno del tuo viaggio una deve costare meno di un euro e l'altra meno di 100 euro vai allora quella che può costare meno di un euro penso a un bulloncino con la testa a brucola come mai perché nella bici sono quasi tutti del solito passo e della solita misura sì è la vite da tre o quattro mi sembra sì che sono sia nei freni un po' ovunque un po' ovunque e io ho sempre problemi con quelli dei freni che ogni tanto si allentano ogni tanto i freni iniziano a fischiare e ti danno sempre quell'accompagnamento che è noioso che è noiosissimo e quindi la possibilità di avere un pezzettino piccolo così nella borsa in modo da poterli sostituire o cambiare in qualsiasi momento penso sia una cosa ottimo beh comunque l'abbiamo detto tu sei meccanica cioè ne sai anche di meccanica perché per il tuo lavoro ne devi sapere e invece sotto 100 euro? sotto i 100 euro lo so io faccio queste domande apposta per mettermi in difficoltà sì 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 no certo io lo faccio apposta perché in realtà io voglio carpire rubare un po' di segreti mi diverto a capire un po' inventare anche cioè scoprire cose nuove di fatto sotto i 100 euro può essere una pompa ok che in pratica è composta in due parti se la apri ci puoi mettere anche le bombolette di CO2 ok ho capito cosa intendi quindi in caso di in caso di sgonfiaggio hai la bomboletta subito per i tubeless ok vai i tubeless per rigonfiarli velocemente che con la pompa a mano ci metti tre anni non ci riusciresti allora per dargli una bella un tot di pressione giusto una bella botta con il CO2 però è una pompettina 20 cm la sviti dentro c'è l'alloggio per metterci fino a due bombolettine di CO2 e la puoi usare sia manuale che vedete quante cose si imparano io non ho cioè come ti ho detto prima la faccio apposta questa domanda perché per carpire segreti non sapevo neanche che esistesse questo attrezzo quindi adesso adesso lo so c'è qualcosa di cui hai paura in questo viaggio o c'è qualcosa che ti preoccupa perché tu mi hai anche raccontato prima che per te la bicicletta è anche servita per perdere peso per stare meglio anche dopo il lockdown comunque il periodo del covid è stato pesante per tutti e per tanti appunto la bicicletta ha rappresentato uno strumento per oltre poter uscire e girare più liberamente perché appunto non ci siamo dimenticati come era il primo lockdown ma è il tuo lavoro ma ti è anche servito per stare meglio in generale sì perché dopo il lockdown e poi con tutti i vaccini tutte le cose che sono seguite ho iniziato ad avere un po' di problemi di pressione e cose quindi con la pasticca la bici e un'alimentazione corretta sono riuscito a rimettermi in bolla penso a questo punto di essere pronto per partire ok quindi devi solo prendere e partire quando è che partirai la partenza sarà il primo di giugno primo di giugno e tra l'altro chi vuole si può aggregare giusto? chi vuole certo chi vuole si può aggregare facendo una donazione volontaria mi contatta sceglie la tappa che vuole fare e ci mettiamo d'accordo poi durante il percorso ci sono già alcuni pretendenti ci sono dei ragazzi che vorranno fare la tappa del Gran San Bernardo ha scelto la più facile sì la più facile e altri che faranno le prime tre tappe che saranno da casa mia fino a Viareggio ok quindi insomma si sta creando un bel gruppetto sì si sta creando un po' e oltre a fare questo quindi donate perché comunque Gabriele appunto ha questa raccolta fondi vi ricordo per l'ultima volta trovate più informazioni qua sotto in descrizione quindi grazie ancora Gabriele a Gargamella perché dopo in privato mi spiegherai bene perché ti hanno dato questo soprannome perché appunto ci si chiama come soprannomi quindi è giusto così specialmente in Toscana è terra di soprannomi è terra di soprannomi ok fantastico quindi grazie ancora Gabriele grazie ancora Bike Channel per lo spazio che ci ha dedicato e quindi a me viene solo da augurarti buone pedalate grazie mille ok ciao alla prossima ciao e seguite il viaggio di Gabriele ciao ciao